oh devi chiudere qua qua devi chiudere non lì via via che arriva il pietro che ci salta sembra un'atleta sembra vai vai avanti te vai avanti te che la conosci ecco segui il pietro no è indietro è indietro cosa c'è giù ci sarà giù qualche pianta ci sarà giù qualche pianta ho detto che devi andare avanti che devi tagliare e cosa c'è giù gianta grossa salta la via Leo ma salta la via no è troppo alta via Rele un momento aspetta eh lasciala lì facciamo questo è quello il bello c'è una lì che la facciamo da qua sotto la facciamo da qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.